Che poi all'inizio io non vendevo tanto perché ero molto timida. Cioè io mi ricordo una signora si avvicinava al bancone dei prodotti e io dicevo, posso aiutarla? Fin quando il mio capo mi ha detto, Yoko, posso permettermi di farti un'osservazione? Tu sbagli con questo approccio, perché cosa succede? Nove volte su dieci cosa ti rispondono? No, grazie, stavo solo, guardando, esattamente. Dovresti provare con questo approccio. Buongiorno signora, benvenuta allo Shanghai. Il mio nome è Yoko e sono a sua completa disposizione. E devo dire che da quando ho adottato questa tecnica è cambiato tutto. Che adesso vedo una signora che si avvicina e dico, buongiorno, sto solo guardando. Ok, comunque io mi chiamo Yoko per qualunque cosa. Sto solo dando un'occhiata. Che a volte io vorrei dire, no che non stavi solo dando un'occhiata. Cioè ti ho vista. Tu hai preso a caso uno dei nostri tester. Comunque se si trattasse di profumo, te lo sei spruzzata addosso. Peccato che quello non sia del profumo, ma del siero idratante per il viso. Che come la maggior parte dei sieri, ha un colore biancastro, una consistenza gelatinosa. E ora ti sta colando un po' sul collo, un po' sui capelli, perché ti abbiano appena sborrato addosso. Però non puoi dirlo, non puoi dirlo. Molte delle mie colleghe sono cinesi. E io adoro, mi piacciono le lingue orientali, per cui le lingue in generale, a volte io chiedo a loro di insegnarmi una parola. E la mia parola preferita in assoluto, di quelle che mi hanno insegnato finora, è questa. È Shang Shui. Provate a dirlo. Shang Shui. Bella, no? Vuol dire profumo. Mi piace perché in realtà è difficile vendere un profumo, perché tu dovresti più riuscire a vendergli la storia che ci sta dietro, no? Ecco, signora, questo è Shalimar. Deve sapere che quattro secoli fa, in India, l'imperatore Shah Jahan si innamorò periodatamente della bellissima principessa Aljoman Bano Bagum, che in persiano significa gioiello di palazzo, e a lei dedicò il famosissimo Taj Mahal, nonché i giardini di Shalimar, che con le sue fontane, le sue cascate preziosissime, furono d'ispirazione a quel naso profumiere che nel 1958 ideò la fragranza. Grazie. Ecco, questa non è risolta la reazione della mia clientela, per un semplice motivo. Una cosa che non vi ho detto è che il 99,98% della clientela dello Shanghai è cinese. E quando tu il cinese non lo sai, non puoi certo raccontargli della bellissima principessa Aljoman Bano Bagum. Per cui, quello che negli anni è diventato il mio personalissimo metodo di vendita è questo. Prendere il profumo, guardare la signora e dire Shang Shui. Tu è? So anche dire sì, capito, mi rispondo da sola. E generalmente loro hanno la vostra reazione. O si mettono a ridere, o mi guardano strano, mi urlano qualcosa tipo Nize zos nabie, zos nabie, che mi piace interpretare come un ma la tua pronuncia del cinese è impeccabile. Poi, in realtà, arriva la mia collega e mi fa guarda che ti ha chiesto dove è il bagno. Ah. Oppure mi dicono Jdal, che ho imparato a essere stavo solo guardando. Grazie a tutti. Grazie.